Ciao a tutti e bentornati a Pirotecnica La Torretta. Io sono Samu e qui con me purtroppo oggi non c'è nessuno dei miei compagni soliti ma non fa niente perché sono in compagnia di tre bei razzi stupendi. Nel video di oggi andremo a mettere a confronto due importatori, produttori di fuochi d'artificio sui razzi. Quello che vogliamo fare è confrontare i razzi Clasec, i Tomahawk della Clasec, contro i razzi Orione della Levy. Perché questo confronto? Beh è molto semplice, perché come fascia di prezzo e come grammatura sono davvero molto molto vicini. Infatti i razzi Orione, lo potete vedere qua, contengono 15,8 grammi di esplosivo netto contenuto che è più o meno la stessa grammatura che potete trovare nei razzi Tomahawk della Clasec. Non è scritta la grammatura su questi razzi, ma anche questi razzi contengono 15, 15,2 grammi. Quindi siamo davvero molto molto vicini ai razzi Orione, sia come grammatura che come fascia di prezzo sono abbastanza vicini. Unica differenza riguarda il pacco, perché i Tomahawk sono venduti in pacco da 12, mentre invece gli Orione in pacco da 6. Quindi ecco, i Tomahawk ottenete una quantità un po' maggiore. E in questo confronto ragazzi abbiamo deciso di includere anche un outsider, i razzi Apollo della Levy. Perché includere anche questo razzo nonostante abbia una grammatura decisamente inferiore? Perché gli Apollo, lo ricordiamo, hanno 10 grammi di esplosivo netto contenuto. Beh, è molto semplice, perché in confronti precedenti ci hanno sorpreso davvero tanto per essere dei razzi con una grammatura così bassa. Sono davvero molto validi e pensiamo possano competere con razzi con grammatura più alta, come i Tomahawk e i razzi Orione. Una prima differenza che mi viene da vedere tra i tre competitor riguarda le dimensioni. Lo potete vedere immediatamente, mettiamoli a pari livello. Possiamo vedere che i Tomahawk Classic sono decisamente più grandi. Lo potete vedere, sono più lunghi. Tenete conto che il tubo arriva fino a qua, quindi sono decisamente più lunghi. Qui è vero che c'è il tappino che ruba 4 cm, quindi se alziamo il tappino e mettiamo i tappini tutti alla stessa altitudine, in realtà vediamo che alla fine sono tutti della stessa dimensione. Quindi in realtà è anche qui una dimensione illusoria, anche se teniamo conto che comunque il tappo è vero che aiuta l'aerodinamicità, ma al contempo aggiunge peso. Quindi è sempre un po' una dimensione da tenere conto. Per quanto riguarda la bacchetta, vediamo che Orione e Tomahawk stessa bacchetta come dimensione. Apollo, grammatura inferiore, naturalmente hanno una bacchetta un po' più sottilina, un po' più leggerina. In generale i razzi Apollo sono abbastanza leggeri, devo dire. Tomahawk già si sente in mano che c'è della sostanza dentro e anche Orione decisamente si sente il peso. Apollo un po' più leggerini, ma l'avevamo detto che sono un po' degli outsider, perché come grammatura sono un po' più leggeri, quindi non dobbiamo giudicarli troppo duramente. Sono totalmente un'altra fascia e li mettiamo in gara soltanto perché crediamo molto in questi razzi Apollo, crediamo che siano molto validi per le dimensioni. Bene bene, detto questo, superata questa fase introduttiva a parlare un po' delle caratteristiche esteriori e tecniche di questi razzi, passiamo a togliere i tappini e andiamo in rampa di lancio per vedere effettivamente come si comporteranno questi razzi. Tappini che naturalmente ci portiamo a casa perché è plastica e è importante non disperderla nell'ambiente perché ci mette migliaia di anni a decomporsi. Sui tappini vediamo essenzialmente tappini identici. Sì ecco, forse nei Tomahawk sono un po' più fissati, ma penso che sia dovuto più alle dimensioni del tubo. Eccolo qua, siamo riusciti a togliere anche questo. Sugli Apollo mi aspetto che venga via molto facilmente, è un razzino anche un po' più piccolo. Eccoci qua. Bene bene bene. Ultima cosa da ricordare prima di partire al testo, ricordo che i razzi Orione e Apollo nel pacchetto giungono in un pacchetto da 6, anche gli Apollo, e nel pacchetto trovate sia l'accenditore, il bastoncino di censo che serve per accendere le micce, sia il tubo di lancio. Una bellissima attenzione da parte del produttore che vi permette di spararli in tutta sicurezza senza nessun altro aiuto. Per i Tomahawk invece dovete trovarvi un altro tubo. In questo caso naturalmente utilizzeremo i tubi contenuti nei pacchetti allevi, però sicuramente sarebbe stata una bella attenzione avere un tubo anche nei razzi Tomahawk. Bene bene bene, partiamo. Partiamo proprio dai razzi Tomahawk per il confronto, procederemo poi con gli Orione e infine gli Apollo. Prendiamo il primo Tomahawk. Oggi purtroppo non c'è Matteo a farci il verso del gallo. Spero non vi mancherà troppo, spero che vi potrà piacere lo stesso questo confronto. Andiamo col primo. Bello, molto bello ragazzi. Apertura molto simmetrica, devo dire, davvero una bella apertura, davvero delle belle, dei bei colori. Sono dei buoni razzi, davvero dei buoni razzi. Mi sentirei sicuramente di consigliarli. Ne spariamo un secondo. Fra il resto, lo avrete notato, ricordano vagamente i vecchi Diablo. Sono più grandi, hanno una grammatura superiore, ma le ricordano vagamente. Andiamo col rosso e vediamo un po' com'è. Bello, molto bello. Anche qui apertura leggermente meno simmetrica, però comunque un razzo valido, sicuramente un bel razzo. Proseguiamo adesso con i razzi Orione e, sottolineo un'altra differenza che noto, sui razzi Orione vedo una miccia leggermente più lunga, il che vi dà più tempo di allontanarvi. A me dà tempo di andare un po' più indietro per riprendere meglio. Comunque è un'attenzione dal produttore da non sottovalutare il fatto di curare anche piccoli dettagli, come il tubo, l'accenditore, la miccia. Sono quei piccoli dettagli che fanno la differenza spesso. Bello! Vacca che bei glitter! E ci sono ancora delle... dei frammenti ardenti che volavano giù. Davvero dei bei razzi, ragazzi. Non so voi, ma dopo aver visto Tomawa che Orione, mi viene da dire che gli Orione sono su un altro livello, ragazzi. Che begli effetti, che bella apertura. E in uno stesso razzo avete più effetti. Abbiamo avuto quei glitter che sono durati quasi per tutta la caduta del razzo. Sono cose da non sottovalutare, da avere una bella ricchezza. Andiamo con gli Apollo. Questi sono un po' gli outsider, lo ricordiamo, perché 10 grammi anziché 15. Vacca che bello! E questo, ragazzi, è il motivo per cui ho deciso di includere questi razzi Apollo in questo confronto. Nonostante abbiano 5 grammi in meno, sono davvero molto validi e se la battono sia con i Tomawak che con gli Orione. La botta è molto meno forte. Spero che si sentirà a video, però, ragazzi, si sente che la botta degli Apollo è meno forte. Penso che abbiano sacrificato parte della carica di apertura, parte del botto, per valorizzare gli effetti. E approvo in pieno questa scelta perché sono davvero dei bei effetti. Andiamo con l'ultimo Tomawak. Pazzo! Un po' fuori focus, però ho delle belle stelle verdi, molto luminose. Però, ecco, vedete, c'è un solo effetto in questi Tomawak alla fine. Non hanno molta ricchezza di effetti. Gli effetti sono di qualità, per carità, ragazzi. Belle stelle, bel razzo di qualità. Ma, ma, un solo effetto. Un po' si vede che si va a risparmiare un pochettino da qualche parte per favorire la quantità. Comunque il pacco è da 12 e anche qui non è da sottovalutare la cosa. Andiamo adesso con l'ultimo Orione. Bello! Anche qui, apertura non simmetricissima, ma, l'avete visto, che belli effetti. Belli quelle stelle rosse che lampeggiano in aria. Bella apertura. Davvero un bel razzo. Anche qui, vedete, un razzo ma due effetti. E queste sono cose da tenere presente quando si va a scegliere che razzo prendere. Andiamo ora con l'ultimo Apollo. Se no mi ammazzo. Bello anche questo. Avete visto, ragazzi, un bel salice, un bel crackling. Abbastanza deciso, davvero dei bei razzi. E qui, sul pacchetto di uno dei futuri video, facciamo la nostra conclusione. Ragazzi, indubbiamente sono tutti e tre dei bellissimi razzi. Belli Tomahawk della Classic. Belli gli Apollo. Belli gli Orione della Levy. Anche gli Apollo della Levy. Ma mi sento di decretare assolutamente la Levy come vincitrice sui razzi. Ha davvero una marcia in più, ragazzi. I Tomahawk sono dei bei razzi, senza dubbio. Ma la qualità delle aperture dei razzi a Levy, la qualità degli effetti. Il fatto di avere all'interno di uno stesso razzo più di un effetto. Questa è una ricchezza da non sottovalutare. E quindi, senza dubbio, vincitrice a man bassa la Levy. Sul confronto a Levy versus Classic. Sui tre razzi mi sentirei di mettere al primo posto gli Orione. Bellissimo razzo. Dimostrano anche più dei 15,8 grammi che hanno. Sicuramente consigliato. Secondo posto per gli Apollo. Che nonostante abbiano soltanto 10 grammi, ben 5 grammi in meno. Si difendono benissimo anche contro competitor con grammatura superiore. E ultimi classificati Tomahawk. Tomahawk bel razzo. Bello avere il pacco da 12, ma sono un po' piatti. Se il video vi è piaciuto, ragazzi, lasciateci un like e iscrivetevi al canale. Ogni iscrizione, ogni like, ogni view ci aiuta a crescere. Ci aiuta a portare contenuti e a cercare sempre nuove collaborazioni per portare contenuti sempre nuovi a voi che siete a casa e ci seguite. E se volete aiutarci ancora di più a crescere, consigliate i nostri video. Consigliate di iscriversi al canale, a persone che sapete, che amano i fuochi d'artificio e petardi quanto noi. Grazie di averci seguito e ci vediamo alla prossima.